Caldo rovente in tutta Italia, punte oltre i 40 gradi, mari con temperature tropicali, siccità e carenza d'acqua, bollino rosso sulle autostrade e il primo grande esodo estivo, gli aggiornamenti dell'ANAS. Domani a Roma, vertice sul Medio Oriente, incontro tra CIA, Mossad, Qatar e Egitto per un accordo su cessate fuoco e ostaggi, nuova strage a Gaza, almeno 30 persone uccise in una scuola che ospitava sfollati, colpita durante un raid. Fatti, forza, non sei l'unico, non sei un terrorista, sono le frasi scioccanti che Nicola Turetta ha rivolto durante il primo colloquio al figlio Filippo, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La via Appia, dichiarata patrimonio dell'umanità, la magistrale opera dell'antica Roma diventa il sessantesimo sito patrimonio dell'UNESCO che si trova in Italia. Olimpiadi, prima giornata di gare, prime medaglie, la Cina il primo oro, la prima medaglia italiana arriva dal ciclismo, Filippo Ganna conquista l'argento nella gara a cronometro sotto la pioggia. Buonasera e benvenuti al TG2000, è un fine settimana di allerta per il grande caldo, con temperature fino a 40 gradi e città da bollino rosso. Allarme siccità nel sud, con vere emergenze in Calabria e Sicilia. Si parla di tropicalizzazione del mar Mediterraneo. Marino Galdiero. C'è poco da scherzare, la situazione è critica. L'anticiclone africano che si è stabilito sull'Italia non ci darà tregua. Non uscire nelle ore calde, al mare ma all'ombra, prendere un gelato. Sono pagliativi. Insieme alle temperature record di questi giorni, che martelleranno l'estate, c'è la siccità. Poca ne è caduta di acqua e poca ne arriva nei rubinetti di alcune regioni del sud. Il cambiamento climatico, sì, è lui. Qui siamo a Tirregna, località balneare, lungo la costa di Pisa. A volte entri veramente, il mare è caldo e non ti rinfresca nemmeno. Sì, l'acqua ogni anno che passa diventa più calda per ragioni di riscaldamento climatico. Quest'anno, ogni giorno che viene l'acqua, la temperatura è troppo alta. I grafici di chi studia il clima confermano la crescita costante delle temperature negli ultimi anni. Insomma, il Mediterraneo si sta lentamente tropicalizzando. Si prevedono picchi di 42-43 gradi in meridione, 37-40 gradi al centro, sulle Alpi e gli Appennini temporali veloci e improvvisi. La settimana prossima ci aspettiamo anche un ulteriore aumento. Farà sempre, non un grande aumento, però farà sempre molto caldo. L'acqua scasseggia in diverse regioni italiane. Manca quella potabile in Calabria, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La poca pioggia accaduta quest'anno in Abruzzo mette in crisi il settore agricolo, che chiede un aumento dell'uso del gasolio per irrigare i campi. La siccità colpisce la Sicilia da circa un anno. Si tratta di una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. A Palermo l'acqua è garantita sino a dicembre, con un'ulteriore riduzione della pressione. Nell'area dell'Agrigentino e di Gela, la nave cisterna della Marina è arrivata in soccorso. La situazione è grave anche negli invasi della Puglia, Basilicata, Lazio, la Sardegna e la Campania. E questo è un weekend rovente anche per quanto riguarda il traffico. Il primo grande esodo con milioni di italiani in viaggio. Allora per fare il punto ci colleghiamo con Daniele Garzia dell'ANAS, a cui chiedo qual è la situazione al momento e cosa si prevede per le prossime ore. Buonasera Daniele. Buonasera, ciao. Si avvia la conclusione il sabato di questo primo weekend di esodo, contraddistinto dalle partenze per le maggiori località estive. Un weekend contrassegnato da Bolino Rosso che vede gli italiani spostarsi per le vacanze. Il traffico è al momento regolare sulla rete stradale e autostradale di ANAS, dove nelle strade di competenza ANAS ha aumentato il personale di servizio e è sospeso oltre 900 cantieri. L'incremento della circolazione nelle prossime ore potrebbe riguardare i principali itinerari turistici, quindi i valichi di confine a nord, a sud invece la due autostrada del Mediterraneo. Per quanto riguarda il centro sicuramente le statali Pontina e Appia, l'itinerario è 45. In Sicilia occhi puntati sulla A19 Palermo-Catania. Vi segnalo inoltre che per tutta la giornata di domani è attivo il divieto di transito per i mezzi pesanti. Si raccomanda prudenza, soprattutto è importante evitare le distrazioni del cellulare, ma per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde gratuito di ANAS 800 841 148. Grazie allora per tutti i consigli e le informazioni. Andiamo a Cogne dove i turisti possono tornare. È finito l'isolamento del Comune Valdostano dopo l'alluvione del 29 giugno. Il servizio di Antonella Mazzateruel. Si è rimboccata le maniche Cogne e oggi può permettersi di gioire per la fine del suo isolamento. La strada regionale tirata lucido da oggi dopo quattro settimane di blocco è nuovamente percorribile. Nella nota località turistica la stagione dunque può ripartire e stamani alla riapertura della viabilità c'erano automobilisti provenienti pure dalla Francia, mezzi pesanti e camper dirigentemente in fila per raggiungere il cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Siamo venuti qua in Val d'Aosta, abbiamo girato un po' di valle in attesa che aprissero la strada e adesso oggi finalmente l'aprono e noi ben volentieri andiamo su. È stata riaperta alle 7 del mattino la strada regionale 47 di Cogne, unica via di collegamento con il fondo valle che una frana il 29 giugno scorso aveva reso inaccessibile mentre gli oltre 1700 villeggianti già sul posto in seguito all'alluvione venivano evacuati in elicotto. E l'elicottero aveva promesso di riportare i turisti nel paese temporaneamente isolato il governo che oggi riconosce che è stata invece la comunità che ha saputo reagire. È stata infatti immediata l'apertura del cantiere con l'avvio dei lavori che hanno visto operare in meno di un mese 14 mezzi, 24 ore su 24 e anche 48 mezzi in contemporanea e oggi con soddisfazione l'ordinanza di chiusura stradale è stata rimossa. Ed è stata riattivata anche la circolazione ferroviaria su entrambi i binari della linea Battipaglia-Sapri dopo il deragliamento di alcuni vagoni di un treno avvenuto la notte tra lunedì e martedì. Rimossi cari e container attraverso l'utilizzo di gru stradali, scavatori, camion gommati. Successivamente, terminati rilievi dell'autorità giudiziaria, sono stati effettuati gli interventi di ripristino dei marciapiedi, dell'armamento, delle rotaie e delle traverse. E ora la guerra è in Medio Oriente, sul fronte diplomatico, occhi puntati a Roma per il vertice domani appunto tra CIA, Mossad, Qatar ed Egitto. L'obiettivo è di trovare un accordo per il cessato il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Intanto però a Gaza si continua a morire. Massimiliano Cocchi. I muri sbriciolati e i detriti scagliati a centinaia di metri di distanza raccontano la violenza dell'esplosione che ha distrutto una scuola trasformata in rifugio per sfollati a Khadija, nell'area di Deir al-Bala. Almeno 30 persone sono rimaste uccise, i feriti sono decine. Nella scuola, oltre ai rifugiati, dicono le autorità sanitarie palestinesi, c'erano un ospedale da campo e una moschea. Secondo l'esercito israeliano, invece, quell'edificio veniva utilizzato da terroristi di Hamas come deposito di armi e base per lanciare attacchi contro le proprie truppe. Israele continua dunque a colpire la striscia di Gaza. I combattimenti in questi giorni sono più intensi attorno alle città di Rafe Khan Yunis, così come nel quartiere Zeytun di Gaza City. Scontri sono segnalati anche in un'altra zona di Gaza City, Talalawa, dove Hamas afferma di aver ucciso diversi soldati israeliani. Domani a Roma il direttore della CIA, Will Barnes, il capo del Mossad israeliano, David Barnea, il primo ministro del Qatar, Mohamed Bidev del Altani e il capo dell'intelligenza egiziana, Abbas Kamal, si incontreranno per cercare di rilanciare il negoziato per il cessato il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Ma la strada, ancora una volta, è tutta in salita. Israele ha inviato ai negoziatori la propria proposta di accordo, mentre Hamas ha già fatto sapere di non essere disposta a fare passi indietro e, in particolare, ha ribadito che per liberare tutti gli ostaggi chiede il ritiro completo delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Ci spostiamo in Ucraina, bombardati tre aeroporti russi, un attacco avvenuto mediante dei droni. Mosca ha avvisato il Pentagono di un'operazione segreta che l'Ucraina stava preparando contro la Russia. Ci dice di più Fabio Bolzetta. Un miliardo e mezzo di euro provenienti dagli extraprofitti derivati dagli asset congelati alla Banca Centrale Russa sono stati versati dalla Commissione Europea all'Ucraina per la difesa e la ricostruzione del paese invaso da Mosca. L'annuncio via social della presidente Ursula von der Leyen ha provocato l'immediata reazione del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Valuteremo attentamente come reagire perché tali iniziative non rimarranno senza risposta. Intanto nuovi attacchi russi con 22 droni contro impianti energetici in Ucraina nelle regioni di Zitomir e Chernyiv, uccisi almeno tre civili e ferite 19 persone. Sul giallo dell'autobomba al nord di Mosca che due giorni fa ha ferito un ufficiale militare russo e sua moglie, l'agenzia di stampa di Mosca, Ria Novosti, ha pubblicato un video dei servizi segreti russi in cui un uomo che afferma di chiamarsi Eugenie Serebriakov e di essere il sospettato dell'attentato accusa direttamente l'Ucraina. Il governo di Kiev ha da subito negato di essere responsabile dell'esplosione. Ancora casi di truffe ai danni di anziani ed è sempre più importante seguire i consigli su come difendersi ed evitare inganni. Il servizio è di Chiara Placenti. I truffatori, soprattutto quelli di persone anziane, non guardano in faccia a nessuno. Un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di aver aggirato a Nuoro un'anziana zia della governatrice della regione Sardegna, Alessandra Todd. Il malvivente era riuscito a entrare nell'appartamento della signora e a farsi consegnare denaro e gioielli fingendosi un maresciallo dell'arma. Appena la vittima ha realizzato di essere stata ingannata, ha presentato la denuncia e si sono attivati i carabinieri, quelli veri. Grazie a filmati registrati da una telecamera e incrociati con altri elementi acquisiti, i militari hanno identificato e arrestato l'uomo che intanto aveva raggiunto Napoli. Le indagini però sono ancora in corso. Potrebbero esserci dei complici. Quella di fingersi un rappresentante delle forze dell'ordine è solo una delle truffe più ricorrenti. Difendersi dalle truffe è possibile. Le tecniche adottate dai truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti. Conoscerle è il primo passo per difendersi. Sono tantissime le strategie adottate dai truffatori per calpire la fiducia degli anziani. Dalla finta perdita di gas, dall'urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un aspettato rimborso. Purtroppo i truffatori sanno di poter contare sulla sensibilità emotiva e la fragilità fisica delle vittime per conquistare la loro fiducia e sanno anche che a volte gli anziani, per vergogna, non trovano la forza di denunciare. Se vi vengono chieste le vostre informazioni personali, soldi o di entrare in casa, chiamate subito l'112. Noi possiamo aiutarvi. E gli anziani hanno un ruolo insostituibile nella famiglia, nella società e nella chiesa. Così Papa Francesco in un posto su X in occasione della quarta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra domani. Rita Salerno. Sull'esempio dei santi Gioacchino ed Anna, nonni materni di Gesù, gli appartenenti alla terza età, sono chiamati ad essere alberi vivi per la saggezza del mondo e poeti della preghiera. Sono le immagini scelte da Papa Francesco per rendere omaggio ai nonni e agli anziani, di cui domani, domenica 28 luglio, ricorrerà la quarta giornata mondiale istituita proprio dal Pontefice. Nel messaggio per l'occasione Francesco approfondisce le tante cause della solitudine, amara compagna della vita di tanti anziani, per invitare ogni comunità a costruire legami tra le generazioni. Tante volte da Vescovo di Buenos Aires scrive nel testo mi è capitato di visitare case di riposo e di rendermi conto di quanto raramente quelle persone ricevessero visite. Alcune non vedevano i loro cari da molti mesi. È un tema quello degli anziani particolarmente caro al Papa che non perde occasione per rivolgere un pensiero di gratitudine per i suoi nonni di origine piemontese, come lo scorso 27 aprile, durante l'incontro, la carezza e il sorriso alla presenza di 6.000 tra nonni e nipoti. Cercate i vostri nonni e non immarginateli. Per il vostro bene l'immarginazione degli anziani corrompe tutte le stagioni della vita, non solo quella dell'anzianità. Ai nonni e ai fedeli che prenderanno parte alle diverse funzioni che si svolgeranno domani in tutto il mondo sarà concessa l'indulgenza plenaria su indicazione della penitenzieria apostolica. Suscita scalpore il colloquio che Nicola Turetta ha avuto col figlio Filippo lo scorso dicembre, col figlio Filippo in carcere a Verona per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La conversazione intercettata tra i due è trapelata oggi. Ce ne parla Beatrice Bossi. Eh vabbè, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Sono le parole pronunciate da Nicola Turetta nella sala colloqui del carcere di Verona al primo incontro con il figlio Filippo. È il 3 dicembre, Giulia Cecchettin è morta da 22 giorni, uccisa dal suo ex fidanzato con 75 coltellate e nascosta poi in un dirupo tra le montagne friulane. Ci sono altri 200 femminicidi, poi avrai permessi per uscire, per andare al lavoro, la libertà condizionale, non sei stato te, non ti devi dare colpe perché tu non potevi controllarti. Il colloquio dura un'ora, lacrime, silenzi e abbracci si alternano, le microspie registrano tutto, c'è anche un video che ritrae la famiglia intorno al tavolo. Si parla della paura di Filippo di rimanere senza avvocato e di quella di non riuscire a raccontare tutta la verità. Poi di nuovo il padre insiste, un tentativo estremo di salvare il figlio dalla disperazione, dice chi conosce la famiglia Turetta. Non sei un terrorista, devi farti forza, non sei l'unico, ci sono stati parecchi altri, però ti devi laureare. Parole che andranno a riempire gli atti del fascicolo aperto contro il ragazzo accusato di omicidio e occultamento di cadavere. La prossima udienza è fissata per il 23 settembre. Nove persone, di cui sei romani, due della provincia di Reggio Calabria e un cittadino di origini romene, arrestati a Roma perché facenti parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio capitolino con base operativa nella zona nord di Roma e con contatti con gruppi criminali in Calabria. Fissati per lunedì i funerali delle tre vittime del crollo di Scampia, a Napoli sarà lutto cittadino e sul fronte delle indagini si attendono gli esiti delle autopsie eseguite ieri. Lucia Ascione. Non basterà la chiesa della risurrezione a contenere le lacrime e la rabbia di Scampia, l'abbraccio a Rosario, Patrizia e Margherita. Si terrà lunedì in piazza San Giovanni Paolo II dopo il saluto privato delle famiglie. Mancheranno all'appello solo gli undici ricoverati, tra loro sette bambine, due ancora in gravissime condizioni. Sul fronte investigativo, cruciale, si preannuncia l'esito delle autopsie effettuate ieri. Si spera di stabilire l'esatta posizione dei tre congiunti sul ballatoio e di risalire al numero delle persone presenti al momento del crollo di quella struttura, da tempo attenzionata. Intanto sono state già acquisite due perizie, quella del 2015, che metteva a nudo la pericolosità dell'intero edificio, tanto da indurre l'allora sindaco De Magistris a firmare un'ordinanza di sgombero mai eseguita, ed una nuova relazione del 2016 che puntava all'indice proprio sulla precaria condizione delle passerelle, sulla loro mancante stabilità e pessima manutenzione. Per quanto riguarda gli sfollati, pochi hanno fatto rientro negli alloggi dichiarati agibili. Per decine e decine di residenti della vela celeste, casa è diventata la sede di scampia dell'Università Federico II, da poco inaugurata. Dopo l'arrivo delle brandine, si sta predisponendo all'installazione di docce per quanti hanno occupato i locali dell'Ateneo, in attesa del ritorno nella vela o di nuovi alloggi per i quali si temono tempi lunghi. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Pechino nell'ambito della visita nella Repubblica Popolare Cinese. La Premier si tratterà in Cina quattro giorni tra la capitale e Shanghai per rilanciare i rapporti bilaterali, l'interscambio economico e le relazioni culturali dopo il mancato rinnovo del memorandum sulla Via della Seta. In Kenya ora per la crisi sociale ed economica che sta provocando continui scontri di piazza. Ce ne parla Maurizio Dischino. Smettete di ucciderci. Wanjira Wanjiru, attivista per la giustizia sociale, il 25 luglio ha protestato per le strade di Nairobi, capitale del Kenya, tenendo in mano una croce con il nome di uno di 55 manifestanti uccisi da metà giugno durante le proteste contro gli aumenti delle tasse proposti dal presidente William Ruto. Con Wanjira, proveniente dal povero quartiere Matare di Nairobi, c'erano molte altre persone a manifestare con una croce in mano. E anche questa volta la polizia ha represso la protesta con manganelli e gas lacrimogeni, arrestando anche diverse persone. Il Kenya è diventato uno stato di polizia, in cui la polizia può persino arrivare nelle tue zone residenziali con gas lacrimogeni. I giovani vengono rapiti nelle loro case. Devo continuare a guardarmi le spalle. Il presidente Ruto è stato costretto a ritirare gli emendamenti alla contestata legge finanziaria che avrebbe mobilitato circa 2,7 miliardi di dollari appesantendo i prezzi di beni di prima necessità, come pane e olio vegetale. C'è stato un rimpasto di governo, ma la protesta in Kenya va avanti per denunciare la persistente corruzione e per chiedere giustizia sugli abusi della polizia durante le dimostrazioni. 55 famiglie hanno perso i loro cari, quindi è importante che usciamo allo scoperto e mostriamo la solidarietà ai nostri patrioti kenyoti e chiediamo che le loro vite siano onorate, che le loro famiglie siano risarcite. Non deve essere tutto come al solito. La via Appia Antica, che collega Roma con Brindisi, è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e così l'Italia arriva a quota 60 siti iscritti. Luigi Ferraiuolo. Una strada patrimonio dell'umanità è come dire che le grandi vie di comunicazione fanno la storia e questo è il più grande riconoscimento ottenuto dall'iscrizione della via Appia tra i monumenti più importanti al mondo. La comprensione è che le relazioni nate lungo una strada sono cruciali per l'umanità. Una notizia bellissima perché, come hai detto, è sempre la regina via Arum. Non è un caso che l'Italia sia cresciuta lungo le consolari e l'Appia più di tutte sia stata la regina via Arum dell'antichità, che collegava Roma con Brindisi. Infatti univa l'Occidente con l'Oriente. A concorrere al grande risultato con l'UNESCO ha anche una straordinaria storia scritta da Topolino, che ha sostenuto la campagna italiana. Sono particolarmente felice del risultato ottenuto dalla via Appia perché è un risultato che premia tante persone che hanno creduto in questa candidatura e hanno portato avanti. E premia un po' anche il fumetto perché con Topolino siamo riusciti a raccontare la storia di questa strada incredibile. Con Alessandro Perina, che l'ha disegnata, ho potuto realizzare un racconto in cinque puntate, che mi fa particolarmente piacere e mi rende particolarmente fiero. La regina via Arum è il sessantesimo sito italiano ad ottenere l'ambito di conoscimento dell'UNESCO nella sessione in corso Nuova Delhi. Il nostro paese è di nuovo la nazione con il maggior numero di monumenti, materiali o immateriali, patrimonio dell'umanità. È incredibile, guarda, che già non lo fosse. Noi effettivamente ci lavoriamo tutti i giorni ed è una delle notizie più meravigliose che mi potevi dare, guarda. Ti ringrazio. L'iscrizione è stata frutto di un lavoro corale partito da Brindisi nel 2004 e che ha coinvolto il Ministero della Cultura a quattro regioni e 87 comuni. Sale in Italia la vita lavorativa, ma siamo penultimi in Europa. È quanto emerge dalle tabelle Eurostat sul 2023? Il servizio è di Cesare Cavoni. Andiamo a braccetto con la Romania quando si tratta della crescita della vita lavorativa. Tutto questo, malgrado in Italia la durata media della vita lavorativa sia in lieve crescita. A dirlo le tabelle Eurostat sul 2023, basate sulla stima del numero di anni in cui una persona attualmente di 15 anni dovrebbe essere nella forza lavoro, vale a dire essere occupata o disoccupata nel corso della sua vita. Il dato italiano è legato alla scarsa durata della vita lavorativa per le donne con appena 28 anni nel 2023 a fronte dei 34 in Europa. In Italia però dal 2000 la vita lavorativa delle donne è salita di oltre 7 anni. In pratica nella maggior parte dei paesi dell'Unione la durata della vita lavorativa delle donne è aumentata più di quella degli uomini, con le uniche eccezioni di Danimarca e Romania. A Malta, Slovacchia, Lussemburgo, Estonia e Cipro l'aumento è stato più alto per le donne che per gli uomini. In Bulgaria, Slovenia, Danimarca e Svezia gli aumenti per uomini e donne sono stati quasi uguali. È tempo di agire, è lo slogan che accompagna la giornata mondiale dell'epatite che si celebra domani per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati alla malattia e per implementare le azioni finalizzate alla prevenzione, diagnosi e al trattamento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni 30 secondi nel mondo una persona muore per una malattia legata ad una delle forme di epatite virale, oltre un milione i morti all'anno. E dopo la spettacolare cerimonia di apertura dei giochi in una Parigi sotto la pioggia, oggi già le prime gare e le prime medaglie, tra cui un argento per l'Italia nel ciclismo con Ganna. Ci aggiorna Barbara Masulli. Il sogno sarebbe battere il record azzurro di 40 medaglie segnato nei precedenti giochi di Tokyo. Per il momento l'Italia è a quota 1 argento ma la strada olimpica è appena iniziata. A vincere la prima medaglia tricolore è Filippo Ganna nella cronometro individuale. Buone notizie anche dal tennis, dal nuoto e dalla pallavolo. La tennista Jasmine Paolini supera il primo turno del singolare femminile. Martinenghi e Viberti staccano il pass per le semifinali dei Centorana. L'Italia del volley batte il Brasile per 3-7-1. Niente da fare per Pellacagna e Bertocchi appena fuori dal podio nella gara dei tuffi dal trampolino sincro. Gara vinta invece dalla Cina che come era prevedibile si è giudicata il primo oro olimpico. Nella scherma femminile perde l'azzurra Rossella Fiamingo mentre la campana Assunta Scutto conquista i quarti di finale nel giudo. Intanto nelle stazioni ferroviarie francesi turisti e pendolari continuano a fare i conti con le conseguenze degli atti di sabotaggio che a poche ore dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi hanno complicato la giornata di venerdì. La situazione del traffico sull'alta velocità è comunque in miglioramento ma in alcuni casi persistono ritardi di una o due ore. Fino a lunedì non sarà garantito un regolare servizio. Solo la linea TGV Est è tornata alla normalità. I tecnici hanno lavorato tutta la notte sotto la pioggia per consentire la ripresa della circolazione anche perché questo fine settimana, giochi olimpici a parte, è cruciale per molti francesi che partiranno per le vacanze. L'atto criminale non è stato rivendicato e le autorità non si sbilanciano sui responsabili. La procura ha aperto un'indagine per danni alla proprietà tali da pregiudicare gli interessi fondamentali della nazione. Una delle piste seguite è quella legata ai gruppi estremisti ambientalisti. La cerimonia di apertura proposta ieri sera dal Comitato Organizzativo dei giochi olimpici ha regalato al mondo intero meravigliosi momenti di bellezza e di gioia. Questa cerimonia purtroppo prevedeva scene di delisione e di scherno del cristianesimo che deploriamo profondamente. Così in una nota la conferenza episcopale francese ha reagito a uno dei quadri coreografici con una parodia dell'ultima cena di Leonardo da Vinci che state vedendo appunto nell'immagine. E sicuramente invece emozione, incanto senza ombre. Il finale della cerimonia ieri a Parigi con Celine Dion tornata a esibirsi in pubblico dopo quattro anni. Francesco Durante. Ben ritrovati con il TG2000. Un'ultima notizia ancora di sport. Il ferrarista Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Belgio. In realtà il tempo migliore l'ha fatto segnare Verstappen ma il pilota della Red Bull ha cambiato motore durante le qualifiche ed è stato quindi il retrocesso di dieci posizioni. A scattare dalla seconda posizione accanto alle Clark sarà l'altra Red Bull del messicano Perez. Ed è questa l'ultima notizia. Adesso spazio le previsioni del meteo. Poi a seguire la messa mentre con l'informazione del TG2000 ci rivediamo alle 20.30. Arrivederci.